Ciao a tutti! Continuiamo a parlare di camere. Oggi vedremo la camera a due nodi, che a differenza della camera a un solo nodo, ha un controllo in più. Come vedremo, questo controllo in più si chiama punto di interesse e serve a dare una direzione alla camera. Bene, prima di aggiungere la nuova camera alla scena, disattiviamo le due camere a un nodo che abbiamo aggiunto nella lezione precedente. Per farlo, veniamo qui nella timeline e spegniamo i due occhiolini a fianco alle due camere. Uno e due. Ora, come vedete, l'inquadratura sulla scena è tornata di nuovo ad essere quella statica frontale che avevamo quando non c'erano ancora le due camere. Adesso possiamo aggiungere la camera a due nodi. Quindi andiamo nel menu Layer, New Camera, si aprono i Camera Settings. Questa volta, nel primo menu a sinistra, anziché Camera a un nodo, scegliamo la seconda opzione, cioè Camera a due nodi, questo qua. A destra, come obiettivo, dal menu dei preset, scegliamo di nuovo il 50 mm. E come al solito, ignoriamo completamente tutti gli altri parametri. E disattiviamo Enable Depth of Fill e Lock to Zoom. E diamo l'OK. Benissimo. In questo momento, nella scena, è attiva la camera numero 3, che vediamo qui nella timeline. Nel monitor di sinistra lasciamo pure il punto di vista top. Torniamo nella timeline e apriamo le proprietà di trasformazione della camera 3. Come vedete, abbiamo gli stessi parametri che avevamo per la camera 1, cioè la posizione, l'orientamento e la rotazione, e in più abbiamo un nuovo parametro che si chiama punto di interesse. Il punto di interesse sta a indicare il centro dell'inquadratura della camera. Se guardiamo da vicino la camera nel punto di vista top, il punto di interesse è rappresentato da questo cerchietto con la croce che si trova appunto al centro dell'inquadratura della camera. E se vogliamo spostare il punto di interesse, possiamo agire sui suoi tre parametri qui nella timeline. Proviamo. Se agisco sul parametro X, come vedete, sposto il punto di interesse a sinistra e automaticamente sposto il centro dell'inquadratura a sinistra, un po' come se la ruotassi verso sinistra. Allo stesso modo, se sposto il punto di interesse verso destra, il centro dell'inquadratura si sposta a destra. Bene, ora prima di provare a spostare il punto di interesse in alto e in basso, cambiamo prima il punto di vista e scegliamo il punto di vista da sinistra, cioè left. A questo punto, se sposto il punto di interesse verso il basso o verso l'alto, allo stesso modo io sposto l'inquadratura in basso oppure in alto. Bene, di nuovo torniamo al punto di vista top e proviamo anche a spostare il punto di vista in avanti o indietro usando il suo terzo parametro. Proviamo. Sposto in avanti oppure indietro e come vedete l'inquadratura si aggiusta di conseguenza. Bene, come avete visto, quindi io posso modificare la direzione dell'inquadratura della camera attraverso la posizione del punto di interesse e la posizione del punto di interesse è indipendente dalla posizione della camera. Cioè, se adesso noi agiamo sulla posizione della camera, per esempio spostiamo la camera a sinistra o a destra, come vedete adesso io sposto la camera ma il punto di interesse rimane fermo dove era e quindi la camera, mentre si sposta, cambia automaticamente direzione perché rimane ancorata alla posizione del punto di interesse che in questo momento è fermo lì al centro della scena. E la stessa cosa vale anche se sposto la camera in alto o in basso. La camera cambia posizione ma continua a guardare lo stesso punto della scena. E la stessa cosa ovviamente vale anche se l'avvicino e l'allontano. Benissimo. Quindi, per inquadrare un oggetto con una camera a due nodi basta che noi mettiamo il punto di interesse nella stessa posizione dell'oggetto che vogliamo inquadrare. Quindi proviamo ad esempio a inquadrare l'automobile arancione. L'automobile arancione in questo momento si trova in questo punto del viale, qui, quindi devo spostare il punto di interesse che si trova qui a sinistra. Bene, quindi agisco sul parametro X del punto di interesse e lo sposto qua. Benissimo. Per quanto riguarda la vista dall'alto ci siamo, soltanto che dobbiamo mettere il punto di interesse alla stessa altezza dell'automobile. Quindi ci facciamo utile al punto di vista di sinistra, quindi andiamo in left. A questo punto dobbiamo spostare il punto di interesse qui in basso. Lo spostiamo. A questo punto, come vedete, l'automobile è perfettamente al centro dell'inquadratura perché il punto di interesse si trova esattamente dove si trova l'automobile. Bene, ora proviamo a fare una animazione sul punto di interesse. Facciamo sì che da 0 a 5 secondi la camera faccia una panoramica da sinistra a destra in modo che l'automobile sia sempre al centro dell'inquadratura. Bene, allora rimettiamo il punto di vista top. Prendiamo il cursore, andiamo al tempo 0. In questo momento l'automobile si trova all'inizio della via, quindi dobbiamo spostare il punto di interesse ancora un po' a sinistra. Spostiamolo. Ecco, a questo punto ci siamo. Ora accendiamo l'orologio del punto di interesse, prendiamo il cursore, avanziamo fino a 5 secondi e ora spostiamo di nuovo il punto di interesse sull'automobile. Quindi lo sposto di nuovo a destra finché non coincide con la posizione dell'auto. E quindi, se rivediamo tutta quanta l'animazione, la camera, stando ferma, fa una panoramica da sinistra a destra e l'automobile si trova sempre al centro dell'inquadratura. Magari in questo caso particolare sarebbe più adatto un obiettivo più stretto del 50 mm, in modo che si veda meno spazio vuoto intorno alla scena. Per farlo sappiamo che basta fare doppio clic sulla camera, in modo che si riaprano i suoi settings e dal menu dei preset possiamo cambiare obiettivo. In questo caso potremmo usare un 135 mm. Bene, ora vediamo meno spazio intorno alla scena, ma come vedete l'automobile è sempre al centro dell'inquadratura. Bene, a questo punto, oltre all'animazione sul punto di interesse che ci permette di seguire l'automobile, possiamo anche animare la posizione della camera. Potremmo per esempio far sì che all'inizio la camera si trovi qui a sinistra e magari più in alto rispetto alla scena e poi a 5 secondi si trovi di nuovo qui a destra di fronte alla casa e magari più in basso verso il prato. Proviamo. Quindi al tempo zero spostiamo la camera con la posizione X. Io direi più o meno così. Magari ci spostiamo anche un poco più indietro in modo da inquadrare una porzione maggiore di scena. Quindi con la posizione Z ci allontaniamo un po'. E in più voglio anche guardare l'automobile dall'alto verso il basso. Quindi innanzitutto cambio il punto di vista da top a left e ora sposto la camera più in alto. E io direi di fermarci più o meno a questa altezza qui. Bene, ora accendiamo l'orologio di position e fissiamo la posizione di partenza della camera. Ora ci allineiamo con il secondo keyframe del punto di interesse e in questo momento qua voglio trovarmi di fronte alla casa e più in basso. Visto che abbiamo ancora il punto di vista left, incominciamo con lo spostare la camera a terra. Quindi agisco sulla posizione Y e sposto la camera quasi fino all'altezza del prato. Quindi più o meno fino qui. Ora attiviamo di nuovo il punto di vista top e ci spostiamo con la camera di fronte alla casa e ci avviciniamo anche un po'. Quindi mi sposto prima a destra qua e ora mi avvicino anche un po'. Io direi più o meno così. Adesso proviamo a fare una preview. quindi la camera fa un movimento dall'alto verso il basso da sinistra a destra ma grazie al punto di interesse è in grado facilmente di seguire l'automobile che si muove da sinistra a destra. magari in questo caso potremmo leggermente correggere la posizione del punto di interesse in modo da aggiustare l'inquadratura iniziale e finale. Al tempo zero per esempio potremmo spostare il punto di interesse leggermente a destra in modo che nell'inquadratura non vediamo questo spazio vuoto qui a sinistra. Quindi prendo il parametro X del punto di interesse e lo sposto leggermente verso destra finché all'interno dell'inquadratura non mi rimane soltanto il prato e un poco dell'automobile. Ora ci allineiamo con il secondo keyframe del punto di interesse e in questo caso potremmo far sì che l'automobile si trovi un poco più in basso nell'inquadratura. Quindi basta spostare il punto di interesse che si trova al centro dell'automobile un poco più in alto. Quindi cambio il punto di vista momentaneamente da top a left e sposto il punto di interesse un poco più in alto vado a che al centro dell'inquadratura più che l'automobile si venga a trovare la famiglia. Proviamo di nuovo a fare una preview. Direi che ci siamo. Bene, la lezione di oggi finisce qua. Nella prossima vedremo che con le camere è possibile giocare anche con la profondità di campo. Cioè vedremo che è possibile mettere a fuoco un oggetto particolare e sfocare gli oggetti sullo sfondo. Benissimo, quindi ci vediamo alla prossima. Ciao!